allora faccio io lepre ma che fai maiale mannaccia memorizza ehi guarda qua memorizza guarda memorizza e dopo la pose perdi tu che vuoi ok ma che stai a giocare a memory con cloud certo noi facciamo giochi di intelligenza hai fatto sport adesso alleno la mente con cloud scegli dai claudio tocca a te questo vediamo lepre e poi ma come cavolo fai a azzeccarci lepre guarda dai hai già azzeccato? si è tre volte che perdo chi scegli? chi scegli? vediamo eh no la foca mi dispiace mannaggia claudio è sbagliato tocca a me io faccio questo tocca a te claudio è proprio bravo comunque a memory si è molto bravo vai chi scegli? questo? questo? quale? no c'è un cane come te claudio è sbagliato mannaggia tocca a me allora guarda un po guarda tu claudio è così mentre guardi ti devi ricordare bene le carte maialino l'ho becchiato non fai più lo sbruffone adesso eh domani sera facciamo qualche altra partita così ti allievi non è una passeggiata gioca a memory quando passeggia non si stacca così tanto invece quando gioca a memory vediamo chi ha fatto buonanotte buonanotte a tutti buonanotte buonanotte